Cari amici, come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito, Ciao Paolo, stiamo, non lo so neanche io come stiamo, vedremo, stiamo meglio rispetto a tanti altri posti sul pianeta, non lamentiamoci per come stiamo effettivamente, con la salute facciamo di tutto per stare nel modo migliore possibile. Certo, allora 342 397 2391 il nostro numero whatsapp oppure info-dottormozzi.it per scrivere direttamente al dottore. Piero iniziamo subito con le dediche però ti leggo una cosa perché un signore ci ha scritto sulla nostra YouTube nell'ultima puntata, signor Tiziano, non vestitevi come dei minorenni, va bene sostenere la causa di Assange ma non vestitevi con queste maglie colorate da pagliacci che danno fastidio come immagine. Da parte mia io ho risposto a questo dicendo continueremo a vestirci da pagliacci se lo reputiamo utile per la causa che abbiamo deciso di sostenere. Poi se tu vuoi dire qualcosa a questo signore, prego. Ma ognuno poi è libero di pensare come vuole, se gli diamo fastidio perché ci vestiamo da pagliacci, va bene, è meglio vestirci da pagliacci che non da far abutti o via dicendo. Insomma, cosa vuoi dire? Ma ognuno, ogni doi, ogni voi dicono a piacenza, ognuno ha la sua zucca, pensa a quello che vuole. Io personalmente non sono una persona che ama mettersi addosso delle cose particolari con delle scritte, ma in questo caso, visto che siamo incappati, sono incappato in questa brava associazione di Como che ha preparato queste magliette per solidarietà a Julian Assange, mi sono sentito così, in dovere di indossarla quando faccio gli incontri, quando facciamo gli incontri lunghi del venerdì, ogni due venerdì, quando facciamo gli incontri brevi del martedì, quando faccio le conferenze in giro. Poi, se a questo signore gli diamo fastidio, meglio essere appunto comunque vestiti da pagliacci che da far abutti. E magari ne vede di gente vestite in un modo particolare che raccontano delle cose proprio che non stanno nei cieli o in terra. Va bene, dopodiché non è obbligato a guardarci, assolutissimamente. Cambia settore, cambia canale, come si dice. Che tra l'altro Julian Assange, a cui va sempre la prima dedica delle nostre trasmissioni oramai da mesi, prima ancora che incapparsi in questa associazione, che tra l'altro sto scoprendo che ci sono diverse associazioni in giro per l'Italia. Sempre ricordo che il bravo Vincenzo De Luca, governatore e presidente della regione Campania, gli ha dato la cittadinanza onoraria. Benvenga Vincenzo De Luca, bravo. A parte le sue posizioni sul Covid, se no è veramente una persona, secondo me, di grandi capacità. Tra l'altro, ieri, 3 luglio, era il compleanno di Julian Assange, è nato il 3 luglio del 1971, quindi gli facciamo con un po' di ritardo gli auguri. Certamente i suoi compleanni passati in prigione, questi farabuti delinquenti che continuano a riempirsi la bocca delle parole di democrazia, rispetto dei diritti, rispetto di qua, di là, di su, di giù. Ecco che mettono in piedi i tribunali contro la Russia, quando i primi tribunali dovrebbero metterli in piedi contro i propri crimini, quelli che hanno perpetrato, perpetrato in un modo incredibile. Sentivo l'altro giorno tutta la storia della Somalia, come hanno ridotto la Somalia, e poi anche tutta la storia della Libia, di come hanno messo sotto sopra la Libia. Pensa te, e questi delinquenti farabuti patentati, ecco, non hanno proprio pagato il fio a nessuno. Roba da chiodi. E adesso vogliono farsi paladini, paladini delle libertà, delle democrazie, di tutto quanto. Va bene, quindi Giuliano Assange, Assange speriamo che qualcosa si riesca tra tutti quanti a muovere. Tra l'altro ho visto una trasmissione della 7 che ha praticamente, guardando lo schermo, in basso a destra, un bollo come questo qua. Ecco, e quindi questo qua lo mettono nelle loro trasmissioni. Va bene. Tra l'altro, Piero, la moglie di Giuliano Assange è andata dal Papa, è stata ricevuta dal Papa. Però questa cosa qua non è uscita sui telegiornali, sui grandi giornali. Io l'ho trovata su Instagram. Foto postata col Papa, dal Papa. Quindi speriamo che anche questa cosa qua aiuti, no? Sì, certo. Certamente. In compenso è stata ferita, colpita, non uccisa, una giornalista in Cecenia. E questo qua, la macchina della propaganda, ci costruirà sopra un'infinità di storie. Ecco, però Giuliano Assange è finito nel dimenticatorio. Vedremo il prossimo premio Saccharov a chi lo daranno. Lo daranno magari alla moglie di Zelensky. visto che l'hanno dato a Zelensky e all'Ucraina, lo daranno all'Ucraina e alla moglie di Zelensky, o sennò ai parenti stretti di Zelensky. Ti ricordi che cosa avevo detto venerdì, nella trasmissione di venerdì, che non era ancora arrivata la rappresaglia nazi, fascista, sionista. E non c'è mai... Pensa a te, è quasi come se avessi la sfera di cristallo. La rappresaglia nazi, fascista, sionista, è arrivata in questi giorni. Sono penetrati in Cisjordania, a Genin, tra l'altro in un campo profughi, e hanno fatto quello che il popolo più avido, più feroce, più razzista, ecco, ama mettere in atto. Colpiscono. E nessuno dice niente. Lì nessuno parla di integrità territoriale. Lì nessuno parla di diritto internazionale che viene calpestato. Nessuno! Non ne parlano, non ne menzionano. Niente di niente. Pensa a te. Pensa a te. Questi delinquenti, farabutti, nazi, fascisti, sionisti, stalinisti, dello Stato ebraico di Israele, sono in grado di permettersi di ogni cosa, di ogni nefandezza. Si sono annessi un'infinità di territorio che facendo il rapporto tra la superficie di Israele, la superficie della Palestina, la superficie della Russia, la superficie dell'Ucraina, è come se la Russia si fosse annessa due terzi o tre quarti dell'Ucraina. Tutto lì. Va bene. Prima o poi i nodi verranno al pettine e qualcuno non avrà abbastanza lacrime da piangere. Dovranno solamente rimpiangere di essersi comportati nel modo peggiore possibile. Sembra quasi che siano andati proprio negli anni, negli anni dei lager, di tutto quanto, che siano andati a scuola di nefandezze. Ecco, quel signore là con i baffetti. Va bene. Terza dedica, come tutte le puntate da oramai un bel po' di mesi a questa parte, la dedichiamo alla città cittadina di Olbia. Il 14 maggio 1943, alle ore 14, Olbia, che rappresentava praticamente il porto della Sardegna, che era quello più vicino alla penisola italiana, praticamente venne colpita, venne bombardata. Tra l'altro era la vigilia del giorno del patrono della città e della Gallura, il giorno di San Simplicio. Quindi, il 14 maggio, 54 aerei partiti dall'Algeria, scortati da 87 caccia, pensate quanti aerei, pensate 140 praticamente, caccia pesanti B-38. In un giorno furono sganciate 333 bombe, per un totale di circa 77 tonnellate. però in tutto il mese di maggio del 43 vennero messi in atto altri nove bombardamenti. Praticamente Olbia venne ridotta a un colabrodo. I morti ufficiali, ufficiali furono 22, però un numero molto, ma molto sottostimato, anche perché i tanti feriti, tanti, ne morirono nei giorni seguenti, nei vari ospedali, ecco, soprattutto nell'ospedale militare di Lura, se anche quelli negli ospedali più piccoli, nei paesi vicini. Praticamente il 60% del patrimonio edilizio di Olbia subì delle lesioni, vennero proprio anche devastati. Non ci furono, non ci fu un numero maggiore di vittime, perché già in precedenza, gran parte della popolazione di Olbia praticamente sfollò, si ritirò dal borgo, dalla cittadina per proteggersi ed andare nell'entroterra. Quindi la storia, praticamente dopo Cagliari, già avevamo parlato in passato del bombardamento di Cagliari, Olbia praticamente era l'obiettivo più importante dal punto di vista strategico, in quanto appunto era il porto che era più vicino all'Italia, sia all'Italia, alla continente. Certo. Bene. Bene, mica tanto. No, di queste cose praticamente nessuno più ne parla, non ne hanno mai parlato, non ha... Sì. E tra l'altro leggendo su internet queste cose qua, c'è stato un signore, ecco, tra l'altro lì lo vorrei far tradurre, proprio in sardo, perché lì proprio però non c'è la traduzione, un commento che sicuramente, come era successo già quando abbiamo parlato la settimana scorsa del bombardamento di Catanzaro, che in cui si parlava che la popolazione non li prese proprio, molto volentieri, i liberatori, ecco, non li accolse come avrebbero pensato di essere accolti. e anche lì c'è un commento in dialetto sardo e poi sotto c'è un commento di un italiano di lei, però sì, voi dite queste cose qua, però ricordatevi che tutto è da fare, è da riportare al fatto che c'era stato, ecco, il nazismo e il fascismo. Cosa c'entra il nazismo e il fascismo? Con fare dei macelli, dei massacri di quel tipo, come se la storia del bombardamento di Dresda, delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ecco, ci entrassero col fatto della guerra. Quello lì sono stati atti criminali, spaventosi, terribili, terrificanti. Comunque va bene, ma non si può mai, oramai, la nomea che si sono fatti questi signori a stelle strisce e quelli dell'Union Jack, ecco, come se fossero proprio intoccabili e che non si potesse mettere in dubbio, ecco, che il loro comportamento è stato decisamente criminale. Allora, una donna, 55 anni, gruppo zero, ha la pressione bassa, solitamente, piglia il Quercus pedunculus e la rosa canina in tintura madre. Però, adesso c'è l'estate, ha paura di finirlo e dice, come alternativa la tintura madre di di Querizia potrebbe andare bene? Ma bisogna vedere intanto i valori di questa pressione bassa. I valori. E poi ricordatevi, quando ci sono problematiche di questo tipo, che sicuramente è abbastanza facile trovarsene in estate perché con il caldo si va incontro a una vasodilatazione e quindi la pressione tende ad abbassarsi. Fate così. se avete la possibilità di avere un pezzettino di terra con un poco di erbetta, ecco, toglietevi le calzature, le ciabatte, le scarpe o quello che avete ai piedi, anche le calze, metteteli sull'erba bella verde e casomai date, aggiungete una bella secchiata d'acqua e vedrete che la pressione non vi creerà più problemi, comincerà a ricircolare per bene il sangue e la pressione si rimetterà in una situazione che vi permetterà di fare quello che ritenete opportuno che state volevate fare o vi dicevo. E poi, appunto, attenzione a non interrompere i processi digestivi perché d'estate è facile mettersi lì magari anche soprattutto nel pomeriggio magari bere e magari una persona di gruppo zero anche solamente con l'acqua interrompe i processi digestivi dopodiché i processi digestivi interrotti e uno si squaldi. Conviene fare come fanno nel deserto magari che bevano bevande calde e bollenti nel deserto a 40-50 gradi all'ombra. loro bevono la menta piperita e anche la menta piperita è un buon tonico può usare una buona tisana ecco fatta con le foglie secche o anche verdi di menta piperita. Piero, abbiamo qualche domanda ancora. Abbiamo Elisa che ha un gruppo B 53 anni chiede un chiarimento sulle combinazioni alimentari. nello stesso giorno si può usare la frutta al mattino in estate e poi a pranzo dei legumi oppure qualche dolce consentito al mattino e poi legumi e frutta a pranzo è possibile per un gruppo B? Sì, ma una persona non deve diventare matta non so che problematiche abbia ma lei fa tutte le sue belle prove sperimenta le persone di gruppo B in genere sono quelle che vanno più d'accordo con la frutta può mangiarsi la sua frutta meglio se la mangia al mattino ci sono tanti frutti che possono essere adatti insomma al gruppo B addirittura anche il melone tanto per dire e con le uova se la cava bene insomma poi ecco vede dipende dipende appunto da che problematiche una persona non c'è da diventare da diventare matti di fronte a cose di questo tipo ok senti invece la signora Vittoria che è un gruppo zero scrive da Brescia 61 anni dice io seguo l'alimentazione del gruppo ovviamente con qualche sgarro ogni tanto ma poca roba però mi sono sempre chiesta come mai il grano e il latte che sono sempre esistiti e ne abbiamo sempre fatto uso come mai fanno così tanto male spero in una risposta del dottore ma non è che il latte che il latte ecco sia sempre entrato a far parte della storia alimentare dell'umanità anzi infatti non è un caso che tantissime popolazioni a tutt'oggi praticamente non lo usano e certo perché come pure il frumento il frumento e i cereali col glutine per diverso tempo tra l'altro di queste cose ne avevamo già parlato per diverso tempo ecco sì sono stati usati utilizzati ma prima c'era il discorso della cosiddetta selezione naturale per cui le persone le donne mettevano al mondo un sacco di figli bene quelli deboli venivano cancellati già da piccoli appena nati o dopo pochi mesi vi dicendo all'inizio del secolo scorso praticamente la maggior parte dei decessi che riguardavano l'infanzia era determinata dalle broncopolmoniti e dietro facilmente dietro le broncopolmoniti c'era proprio l'intolleranza al glutine però allora le donne ne mettevano al mondo 5, 6, 7, 10 addirittura 15 o anche più per cui c'era che andavano avanti nella vita e a riprodursi quelli che erano più resistenti dopo è arrivato il periodo in cui non c'è più stata questa selezione sono subentrati l'uso di rimedi di farmaci di cose varie per cui gradualmente gradualmente praticamente è rimasto in circolazione il patrimonio genetico con quella caratteristica dell'intolleranza al glutine e poi piano piano sono venuti avanti le cose comunque la signora può fare da cavia si metta pure lei a introdurre a reintrodurre i cereali con glutine e il latte e i derivati del latte dopodiché lascia che sia il suo sistema immunitario mandarle i segnali e che inevitabilmente le li manderà inevitabilmente le arriveranno i segnali l'unica cosa che l'umanità ha sempre mangiato a tutte le latitudini ricordatevelo sono state la carne e il pesce che sia stata est o ovest che sia stata nord o sud che sia stata sui continenti o sulle isole o sulle penisole vi dicendo sempre da che esiste l'umanità sul pianeta le uniche cose che sono sempre state utilizzate per l'alimentazione umana la carne e il pesce ok allora invece qua abbiamo la signora Dora che ha 72 anni è un gruppo zero e scrive da Caserta e dice dottore io ho iniziato la dieta due mesi fa la glicemia era a 200 adesso è a 90 l'emoglobina glicosilata era 63 oggi è 8,03 il cardiologo ha fatto la visita di controllo mi ha chiesto cosa sto facendo perché sono ringiovanita e chiedo se andrà avanti così ma potrò anche togliere qualche medicinale secondo lei allora mi devi chiarire una cosa ho capito benissimo che la glicemia basale il glucosio quello del mattino a digiuno è sceso sotto il 100 90 poco più invece l'emoglobina glicosilata che prima era 63 63 e adesso adesso dice 8,03 no impossibile 8,03 lei ha scritto questa roba qua no allora c'è no perché vorrebbe dire che allora è peggiorata la questione 8,03 a meno che la virgola sia sbagliata sia 80,3 no no ma anche se fosse 80 vorrebbe dire che c'è stato un peggioramento notevole lì probabilmente c'è stato un errore di trascrizione perché quando una persona si trova con la glicemia basale quella del mattino appunto appena alzata digiuno a 90 è difficile poi trovarsi un'emoglobina glicosilata a 8 perché le misurazioni possono essere quella che prevede che c'è il limite il limite di 6 che poi per essere considerato il diabetico in genere viene preso in considerazione di 6,5 oppure quelle che prende in considerazione un'altra misurazione che praticamente parte da 42 e infatti prima lei aveva come umoglobina glicosilata 60 e però se fosse 80 mi sembra proprio una cosa probabilmente lì c'è stato un errore di caso mai la signora la brava signora ci potrà riscrivere e vedere e vedere oppure mi può mandare alla mia mail i referti le coppie dei referti quelli precedenti e quelli attuali va bene senti qua invece c'è ancora una sì ma se ci mette buona volontà certamente tanto poi la glicemia il diabete è una malattia che io qualifico come malattie oggettive come il colesterolo alto i triglicidi alti la pressione alta come il peso alto mettiamoci dentro perché sono problematiche che sono quantificabili in modo oggettivo con strumenti ben chiari strumenti scientifici per quanto riguarda il peso le bilanze per quanto riguarda le pressioni misuratore della pressione lo spigumo manometro che poi adesso ci sono tutti gli strumenti elettronici dicendo per quanto riguarda il colesterolo ci sono degli strumenti ben precisi idem per i trigliceridi e quindi possono essere quantificati con precisione diversamente da altre malattie come ad esempio un mal di testo un mal di schiena una cervicale ecco un dolore addominale una colite quindi la questione la questione è così in questi termini quando quando vedrà che man mano che man mano la glicemia scende e che man mano anche l'emoglobina glicosilata si abbassa e lei gradualmente potrà ridurre i farmaci anche perché poi se li continua a usare e le glicemie sono basse rischia di andare in ipoglicemia tutto sommato l'ipoglicemia determinata dall'uso di farmaci ipoglicemizzanti non è tremenda ben diversamente l'ipoglicemia determinata dall'insulino va bene ancora una dai Giovanni che vi scrive vi seguo sempre con molto interesse ho 49 anni sono single per scelta sono gruppo A e sono del segno del toro volevo chiedere al dottore qualcosa in merito al uso e abuso di alcol e fumo ah beh dipende dipende intanto dipende che problematiche ha il nostro ecco Giovanni che ci ha scritto sì l'abuso di alcol l'alcol è sotto varie forme è sotto forma di vino per il gruppo A il vino più indicato potrebbe essere un vino rosso di non tantissime gradazioni fermo vino rosso fermo per il gruppo A in genere è quello più adatto diversamente dal vino bianco e dal vino bianco frizzante con la birra le persone del gruppo A vanno in contro dei bei problemi se ne rendono subito conto perché una persona del gruppo A ecco una persona appunto di gruppo A che assume birra lì si gonfia subito l'addome e poi possono andare incontro facilmente a forme infiammatorie dell'apparato urinario a cominciare dal cistite uretreti e prostatite e gli alcolici bisogna sempre in ogni caso assumerli con cautela e moderazione e per quanto riguarda il fumo devo dire che io ho smesso di fumare nel 1978 prima avevo l'abitudine di fumarmi sigarette che me le facevo io a mano quando c'era ancora il vecchio trinciato ecco che erano più bacchetti che i fogli di tabacco e poi ho detto ma cosa fai continui a fumare basta un giorno con l'altro smesso è finita lì però ritengo che secondo me secondo me ecco il fumo viene molte volte anche indicato come causa di tante malattie quando invece forse le cause sono da un'altra parte faccio sempre l'esempio dei tumori infantili i tumori nei bambini nei giovani che non bevono non fumano e non usano droghe e che però sviluppano delle forme tumorali come mai perché nessuno va a indagare in quella direzione lì perché sennò magari salterebbero fuori altre storie senza contare che sono tantissime anche le persone adulte che sviluppano per fare un esempio tumore al polmone e che non hanno mai fumato una sigaretta se uno evita di fumare secondo me è meglio dopodiché ognuno è libero di fare come vuole per quanto riguarda l'alcol bisogna vedere che problematiche ci sono sulle persone avanti avanti un po' negli anni ecco che cominciano già a superare ad esempio i 50 55 60 anni quando le energie diciamo così di un certo tipo tipiche maschili cominciano a diventare un po' più flebili devono stare attenti all'uso degli alcolici in quanto che l'uso degli alcolici potrebbe potrebbe inficiare certe caratteristiche maschili quindi come consiglio dico di stare molto molto attenti ok abbiamo capito perché poi se no magari i maschietti devono ricorrere a determinati farmaci ecco per avere prestazioni che invece fino a qualche anno prima ecco potevano portare avanti tranquillamente certo va bene Piero io ti saluto per questa sera anche perché abbiamo un pochettino la linea disturbata come vediamo e sentiamo quindi ti ringrazio anche questa sera per essere stato in nostra compagnia 342 397 23 volevo volevo se è possibile volevo fare un commento perché proprio oggi ad esempio c'è stata la così portata in superficie una donna giovane di 31 anni se non sbaglio ecco una speleologa che è andata insieme ad altri in una cavità in una caverna in provincia di Bergamo e è caduta si è rotta una gamba praticamente ha richiesto si è voluto l'intervento di 70 di ben 70 persone del soccorso alpino speleologico 70 persone pensa te credo che sarebbe opportuno come viene fatto ad esempio in provincia di Trento che vengono addebitate le spese dei soccorsi 70 persone perché c'è gente che si vuole divertire in quel mondo lì uno è libero liberissimo di divertirsi come vuole come quelli che vanno a fare sci fuori pista poi arrivano le slavine le valanghe poi ci restano sotto persone e se riescono a cavarsene però ci vuole in ogni caso un intervento di tanti soccorritori che magari devono mettere a rischio repentaglio la propria vita è incredibile ed è assurdo assurdo ci sono tante cose da fare da tenere a posto in ordine in superficie va bene messaggio ricepito allora grazie a tutti 342-397-2391 il nostro numero whatsapp o info chioccioladottormozzi.it se volete scrivere direttamente al dottore noi ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo ciao Piero grazie e scusate vediamo che cosa combineranno i nostri cari signori ecco di quelli che che hanno la libertà di farne di tutti i colori senza che nessuno senza che nessuno dei popoli progrediti dei popoli della libertà dei popoli della grande democrazia ecco che cosa che cosa riusciranno a mettere ancora in atto vedremo va bene grazie Piero buona serata ciao un saluto a tutti quanti e tante cose belle a chiunque grazie mille ciao ciao pa ciao